Una festa della santità, un grande evento spirituale per due giganti della fede. Queste alcune delle espressioni usate dal Cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per Roma, così come da Monsignor Giulio della Vite, segretario generale della Diocesi di Bergamo, e da Monsignor Walter Insero, incaricato per le comunicazioni sociali del Vicariato di Roma, per descrivere l'evento della canonizzazione dei due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, previsto il 23 aprile, seconda domenica di Pasqua o domenica della Divina Misericordia. E il loro rapporto era molto stretto, a incominciare dal modo in cui hanno esercitato entrambi il loro ministero, attraverso uno stile di vicinanza, accoglienza, premura verso le persone. Le canonizzazioni, ha spiegato il Cardinale Vallini, sono una grazia di Dio che il Signore ci fa, mostrandoci come modelli di vita cristiana due uomini di fede. E le canonizzazioni dei due papi coinvolgeranno davvero un grande numero di persone. La partecipazione dei fedeli sarà libera, non sono previsti biglietti o particolari permessi di accesso, ha detto il direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, che ha sottolineato che è prevista un'alta affluenza di fedeli italiani, polacchi e di altre nazioni. Alla cerimonia parteciperanno anche diverse corali, Cappella Sistina, Vicariato, Cacrovia e altre, e si realizzerà una sorta di corale multipla, ha sottolineato. Previsti oltre mille tra cardinali e vescovi e 5.000 preti concelebranti, migliaia tra capi di Stato, diplomatici, politici e autorità varie. Intanto, nella mattinata di lunedì 28 aprile, verrà celebrata a San Pietro una messa di ringraziamento, preseduta dal cardinale Angelo Comastri. Ma la festa della Santità sarà anche un vero e proprio evento mediatico. Oltre 400 i giornalisti di testate di tutto il mondo accreditate e che potranno seguire l'evento. Attraverso uno speciale media center, allestito nell'atrio dell'aula Paolo VI, che potrà ospitare centinaia di operatori. Lì si svolgeranno anche i briefing, tra l'altro con i postulatori delle due cause, storici, testimoni diretti della vita dei due papi, ecclesiastici ed esperti. Intanto, un incontro di preparazione per i giovani è previsto martedì 22 aprile, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, e una notte bianca di preghiera, sabato 26, in una decina di chiese del centro. E' quanto annunciato il cardinale Agostino Vallini e Monsignor Walter Rinsero, tra le varie iniziative della Diocesi di Roma, proprio per preparare i fedeli, soprattutto i giovani, alla giornata della santificazione dei due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. La Diocesi di Bergamo, come invece ha spiegato il segretario generale Monsignor della Vite, realizzerà alcune opere segno di carità in memoria dei due papi. Tra i presenti, intanto, è attesa la presenza del Papa Emerito Benedetto XVI e le due miracolate di Carol Voitila.